Mercoledì 14 settembre, il primo giorno di scuola per quasi 7.000 studenti della città di Pesaro di ogni ordine e grado. Studenti che trovano per la prima volta o ritrovano il loro banco di scuola e c'è chi trova anche edifici scolastici nuovi o riqualificati. Rientra in questa categoria la struttura di Pesaro Studi in Viale Trieste, che da oggi diventa la sede di trasloco temporaneo della scuola media Dante Alighieri di Soria, che in quest'autunno verrà demolita per essere ricostruita grazie a fondi PNRR, struttura di Pesaro Studi che dunque diventa parzialmente da scuola media, poi recupererà anche spazi dedicati all'università. È voluto partire da qui oggi il primo giorno scolastico anche del sindaco Matteo Ricci e degli assessori della giunta comunale per salutare appunto la prima campanella in questa scuola recuperata. Abbiamo fatto un trasferimento in poco più di due mesi e voglio ringraziare subito e pubblicamente non solo il comune, i tecnici e gli operai e il personale della scuola che ha reso possibile questo trasferimento in così poco tempo. Spero che questo sia un inizio di una nuova avventura positiva per l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri che è una scuola storica della città che merita non solo questa sede vicino al mare bellissima ma merita anche di essere rinnovata nelle sue strutture e di trovare un progetto, di avere un progetto in linea con le nuove idee di scuola che i docenti in questi anni cominceranno a realizzare, a porre in essere in pratica. Siamo riusciti nel giro di poco a trovare una sede alternativa al mare in un luogo scolastico già predisposto per l'università quindi siamo sicuramente adatto e lo abbiamo fatto non perché avevamo un'emergenza ma perché abbiamo una bella notizia cioè abbiamo ottenuto un finanziamento per una nuova scuola e quindi questo trasferimento serve durante il periodo della costruzione della nuova scuola che speriamo possa essere il più veloce possibile dobbiamo continuare questa politica di ristrutturazione delle scuole esistenti ma anche di costruzione di nuove scuole e dopo la scuola di Viala Marmora che è stata presa ad esempio andiamo con questa nuova scuola che è la Dante Alighieri che ugualmente sarà al top dell'efficientamento energetico della sicurezza sismica e quindi un altro esempio di scuola moderna e innovativa e speriamo che i ragazzi possano tornare nella sede di Sorial il prima possibile è evidente che nel frattempo stare in Viale Trieste e stare al male male non è e quindi abbiamo trovato una bella soluzione logistica e anche abbastanza vicino al quartiere perché essendo una scuola media è evidente che dobbiamo cercare anche di tener conto della territorialità e quindi la scuola temporanea non potevamo spostarla troppo lontana dal quartiere originario Primo giorno di scuola per il sindaco Matteo Ricci che è dunque cominciato dalla rinnovata sede della scuola media Dante Alighieri a Pesaro Studi poi lettura è continuato anche con una scuola primaria come quella di Viarecchi e un istituto superiore come l'Agrario Cecchi scuole superiori che in questo primo giorno hanno anche la novità del ritrovare il riqualificato istituto Morselli che fa parte del liceo Mamiani oggi siamo andati a fare visita a questa struttura nella quale sono state varcate le porte per la prima volta dopo otto anni in estate vi avevamo già mostrato gli esterni suggestivi con questi colori rosso e bianco e i murales murales che sono presenti anche all'interno in tre piani il piano terra tendente al colore giallo quello intermedio tendente al colore arancione e quello invece superiore tendente al colore fucsia siamo molto soddisfatti anche affaticati perché questa struttura ci è stata consegnata formalmente ieri pomeriggio in verità noi è da giugno che ci stiamo lavorando per poterla attrezzare nei tempi opportuni perché ovviamente la provincia ha fatto un ottimo lavoro in questi anni con le lentezze dovute probabilmente agli aspetti burocratici di banda e quant'altro con noi abbiamo collaborato per la definizione degli spazi ma noi ci siamo occupati poi di attrezzare questa scuola in modo tale che oggi fosse possibile portare i ragazzi in condizioni di sicurezza e poter lavorare nelle aule quindi è stato fatto un grosso sforzo da parte anche nostra sia dei miei collaboratori scolastici che dei nostri tecnici che della dirigente amministrativa Cecilia Guidi per poter arrivare qui oggi e avere tutti i ragazzi seduti voi vedete una struttura che era un cantiere fino a ieri in questa che in passato era l'ex magistrale poi liceo socio psicopedagogico si è invece dovuta fare di necessità virtù scegliendo un'altra strada per la distribuzione del liceo Mamiani abbiamo scelto o meglio siamo stati anche un po' costretti di mescolare un po' le carte perché abbiamo delle classi più o meno numerose ci sono delle classi come tutte le scuole che hanno fino a 30 ragazzi e altre che hanno un numero più limitato e quindi abbiamo fatto la scelta di distribuirli il più possibile in funzione delle dimensioni delle aule e quindi la distribuzione è stata fatta mescolando i due indirizzi del classico e delle scienze umane qui sono presenti le quinte del classico e delle scienze umane e quindi la distribuzione è stata fatta mescolando e quindi la distribuzione è stata fatta mescolando